Ti piacerebbe fare la spesa una volta ogni tanto e senza fatica? Pensare un po' meno a pulire, sbucciare, tagliare le tue verdure? Da adesso, in un attimo, porti in tavola tanta freschezza. Quando Arena pensa a te, fa le cose in grande. Per questo ti offre la freschezza delle grandi buste, la varietà delle loro verdure, la loro bontà e convenienza. Tutto questo in una sola busta. Se vuoi farli felici, abito di pensare in grande. Da!